buongiorno a tutti sono elena chiorino chief digital officer di di best e vi aspetto il 29 settembre all'evento b digital che si terrà qui in cella lab per parlarvi di strategia digitale di neuromarketing con case history assolutamente attuale che vi consenta di strutturare il mindset per fare un'adeguata comunicazione digitale grazie